SIGLA Sono molto fiera che facciate questo viaggio. Vi divertirete moltissimo. Oh, mi raccomando, se qualcosa vi insegue, scappate. SIGLA Abbiamo imparato di più nell'ultimo decennio dalla genetica che in un secolo a di sotterrare ossa. Si è aperta una nuova frontiera. Abbiamo il nostro primo ibrido geneticamente modificato. Avete deciso di creare un nuovo dinosauro? Non mi sembra una buona idea. Il muro è alto 12 metri. Può averlo scavalcato. Dipende. Da cosa? Dal tipo di dinosauro che hanno fabbricato in laboratorio. Dobbiamo evacuare l'isola. È un animale molto intelligente. Ucciderà tutto quello che si muove. Oddio. Torrete! Torrete! Grazie per la visione